Ma ti si vedi tu in Puglia, col coglione, apri un atelier di moda? Sei sicuro di aver pensato a tutto? Sì, sì. Tra 20 giorni l'esame con colloquio atto a verificare la natura del vostro rapporto. E che rapporto, scusi? Le coppia. Le coppia di imprenditori. Di giovani. Di omosessuali. Che cazzo hai fatto? Io ti ammazzo. Una forza! Fingerete? Sono 20 anni che fingo di essere eterosessuale? Per un mese potete fingere anche voi, no? Mai! In città non si parlerà altro che di voi. Tu sei lo stilista. Io sono qui per alcune foto, devo fare un servizio. Davvero una bella coppia. Quando incontrerete la commissione dovete essere perfetti. Due attori professionalisti. E come mai in Puglia? Volevamo dimostrare che la Puglia non ha soltanto le orecchiette. No. Ma c'ha pure gli orecchioni. E come? Come vi siete conosciuti? A un compleanno. Sobrietà. Teste di cazzo. Sei la cosa più bella che mi sia capitata. Che vita di me. Dal 28 marzo al cinema. Dal 28 marzo al cinema.